Kevin, tu così non vincerai neanche il premio del Ceforum della parrocchia! Su, bianco, vieni qui e rivela il nome dell'assassino, dai! E il suo nome è... E il suo nome è il suo nome è il suo nome! Il suo senso è il suo senso, il suo senso è il suo morto! E dove ci sciglie? Sì, ragazzi! Dove è la forza il suo senso? Sapete il suo figlio? Oddio! Sono morto e mi spessi! Il suo senso è il suo senso! Almeno è sempre che mi spessi! Allora, il suo senso è il suo senso! E non sono stretti! C'è la mia amissata? E mi spessi! Cattivo di Superman? E mi spessi! Un gelo di acqua? E mi spessi! Guarda il mio nome è il suo senso che mi spessi! E non viene il suo senso è il suo senso è il suo senso! E non viene il suo senso è il suo senso! L'enitrice al cadavere della prima scena, per cominciare a vincere il piano di Natalena, le cui spruzze tutte le pastole e vera, così di Bruce se ne fa la vera pena, John Marley alla fine del cane muore, nel film Max Rico, il cane muore, Bruce Willis in Jaguar muore, che vale come un cigenato cido percone. Se vuoto conosco la stanzina e la madre, se vuoto conosco la stanzina e la madre, se ti interessa il genere ti passa da guardare porta a porta. E si interessa, 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 si inter Vai oltre! Se tu visto disco schitto e vai oltre! Se non lo visto Saruovas, stai forte! Cosa cosa di Marcello esiste, un franello? Perché non è un franello, è il gioco del fratello! La mia mincella medalha è risale! Suivliss o il armamento? Passo, capisco! Mio di Gatonteo, o quello resto sul profibiscio! Mi distrutto male, a me lo scuola e nella cara mi distrutta in sia la stessa disco! E con la 2 tasa di mangiamento! Facciamola bene questa. Facciamola bene. In finale facciamolo bene. Facciamolo bene. Facciamolo bene. Tu, di che? Penso che mi sentirete mai più parlare. No, aspetta, aspetta, aspetta. Un po' più concitato. Un po' più... strong. Hai sentito? Hai sentito la foto? Ho sentito una cosa strana. Ci ritorniamo. Allora, parlo più... Dopo di che? Penso che non le sentirete mai più parlare. Aspetta, 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 aspetta. Mi serve un finale proprio sconfittante. Più energico, dai, più energico. Ci provo. Ok. Pronti? Sono pronti, sono pronti, dai. Non sono moci, però. Pronti? Sì. Dopo di che, penso che non le sentirete mai più parlare. Grazie!